Lunedì 17 si torna in Consiglio per la questione dell'aumento del capitale e dell'alto calore. Ariano, la città più grande della Valle Ufita e della seconda della provincia, com'è orientata? C'è stata una lunga discussione già nel Consiglio Comunale di ottobre e credo che tutte le forze politiche si siano espresse per il salvataggio dell'alto calore. A noi fa piacere che l'alto calore continui da questo punto di vista a garantire la regolarità nella distribuzione dell'acqua nella nostra provincia come società pubblica di proprietà degli enti locali. Naturalmente ci sono le difficoltà economiche classiche nei bilanci di fine anno a trovare le risorse per questi investimenti che sono piuttosto consistenti visto che il Comune di Ariano dovrebbe investire qualcosa come 750 mila euro nel capitale di alto calore e in questo momento stiamo provando a trovare le risorse almeno sui bilanci del triennio 2019-2020-2021. Vedremo in Consiglio lunedì sera che cosa si decide. Intanto c'è l'ipotesi GESESA, quindi unire le forze con il Sannio? Guardi, questo è prematuro. Io credo che prima dobbiamo provare a salvare la società, poi a garantire in qualche modo un minimo di risorse finanziarie aggiuntive e poi quello che è molto importante è capire in quali condizioni andare avanti perché ovviamente il problema vero dell'alto calore è questo deficit che si produce ogni mese che è un deficit abbastanza consistente.